E allora riprendiamo questa seconda parte, allora mi dai la cartina 1, la numero 1, grazie al mio Manu, eccolo qua, iniziamo da questa. Allora, con questa cartina vediamo la nuova cortina di ferro, cioè le cartine geopolitiche, vedete, rispecchiano la geografia e poi però rappresentano un pensiero. Qui è rappresentata la paura russa di una nuova cortina di ferro che passa dalla linea rossa alla linea ble. La linea ble, vedete, ricomprenderebbe tutta anche l'Ucraina, per esempio. E questa era la paura, è la paura della Russia, cioè di vedersi una Nato che arriva fino alle porte di casa. Fino a lì, cioè vedete poi in questo modo qui, cioè praticamente Mosca con l'Ucraina così avanti, con le tre repubbliche baltiche, che è vicina Mosca, è un tiro di schioppo. E quindi pensate dal punto di vista balistico, ecco, per esempio, una cosa che si potrebbe fare, per esempio, è di mantenere la cortina di ferro, quella rossa, come area, fino alla linea blu, come area denuclearizzata, senza missili. Sì, ma allora Kaliningrad dovrebbe essere sparire immediatamente. Eh, mi scusi. E' anche quello, ovviamente. Eh, caro, perché se io rimango nella linea rossa, Berlino è un tiro di schioppo. In club della Polonia c'è Kaliningrad e ci sono anche i missili supersonici. E' ovvio che deve essere concordato, certo non si devono fare regali in questo ambito, però io penso che... Ma siccome non si fida nessuno di uno e dell'altro tutto rimarrà così. Però se Putin incontrasse Biden e facessero questo raggiamento, finiamo la guerra e facciamo questo corridoio, questo sarebbe un motivo. Teniamo presente una cosa, che in realtà le ultime dichiarazioni che ci sono state, il direttore ha riportato le dichiarazioni di Putin relative al Donbass, relative alla Crimea. Dall'altra parte ci sono state nella festa dell'indipendenza... Erdogan ha detto, ritornate la Crimea all'Ucraina. Erdogan, poi l'ha detto anche Johnson... Che a questo punto non mi fa ben capire da che parte, che gioco stia facendo Erdogan. Il gioco delle tre carte. Poi l'han detto anche, in pratica Draghi e Mattarella in pratica. Sì, ma ormai è cosa... L'han detta Johnson, questa cosa qua, e quello che mi ha sorpreso, e siamo completamente d'accordo con il direttore, mi ha sorpreso proprio Erdogan. Perché Erdogan che faceva il peso in barile... Scusi, Erdogan dice, ritorniamo immediatamente la Crimea all'Ucraina. È quello che vende i droni all'Ucraina per bombardare le truppe russe. Poi va... Cioè, sinceramente è così. È così e andiamo con la cartina 1-2 in sequenza. Grazie. Ecco, qui è la Russia come pensa se stessa. La Russia allargata ovviamente sarebbero la Bielorussia e l'Ucraina. I paesi nato, ma poi c'è tutta la dimensione dell'Artico, vedete? Una dimensione che per la Russia è come una proiezione territoriale quasi. E quindi su questo teniamo presente che l'Artico rappresenta la prossima via per andare dall'altra parte del mondo. È vero, è vero. E accorciare... È vero. E accorciare... E quindi con il diseli, con la dimensione dei ghiacciai artici, e con la capacità navale della Russia con le rompighiaccio, eccetera, eccetera, ha già occupato questa zona e se la vede come una proiezione. Andiamo con la numero 1-3. Grazie. Ecco, qui è l'altra Ucraina. Cioè, il problema... Il problema Taiwan. Il problema Taiwan. che ha dei profili di similitudine, anche con ovviamente, con tutte le diversità del caso, con tutte le diversità del caso con l'Ucraina. Perché le diversità del caso sono che in questo caso la Cina, sotto il versante del diritto internazionale, avrebbe anche qualche ragione. Mentre dal punto di vista del diritto internazionale non ha ragione la Russia. Ma qui qualche ragione di diritto internazionale ce l'avrebbe la Cina e quindi qui è, come dire, la posizione geopolitica degli Stati Uniti che per l'importanza di Taiwan non vuole... C'è una firma dove si dice che la Cina può ritornare a riprendersi Taiwan in un trattato. Non è che uno si svegli la mattina. Però qui c'è anche la posizione sapiente di Kissinger che ha detto siamo per un'unica Cina ma negli anni... No, no, ma è vero. 40, 50 anni fa, quanto è? Siamo per un'unica Cina. Però in questo modo non è entrato mai all'ordine del giorno che la Cina si riprendesse Taiwan. Ma è vero. Cioè questa è una capacità diplomatica che torniamo a richiedere. Allora, andiamo avanti con la prossima... Ecco. Ecco, qui è invece gli Stati Uniti, come pensano la Cina. Vedete, per esempio, la pensano l'India dalla parte in funzione ovviamente anticinese però non sanno, non sanno, sanno benissimo in realtà che la Cina però, l'India per esempio, è filorussa. Ha fatto, guardati, qualche giorno fa ha partecipato a delle esercitazioni con la Cina assieme anche alla Russia. Questo perché c'è la Shanghai Cooperation Organization che è un'organizzazione che ha creato la Cina che ha una dimensione che non può essere paragonata né alla Nato dal punto di vista militare né all'Unione Europea dal punto di vista economico però ha entrambe le dimensioni attenuate e comunque ha fatto fare delle esercitazioni anche, tra l'altro, con India e Pakistan anche Pakistan Pakistan e India che sono in guerra praticamente ci sono ritrovati a fare le esercitazioni assieme ma ecco, con la Cina con la Cina l'India è nei confini fanno anche a Scaramucce ma no, però vanno a fare le esercitazioni assieme le esercitazioni, Shanghai Cooperation sono segnali questi quindi comunque, ecco, vedete tutti i paesi blu sarebbero paesi che con Giappone, ovviamente la Corea del Sud sarebbero, rappresenterebbero la collana di perle con alcuni paesi dell'ASEAN dell'ASEAN e arrivare fino all'India che sarebbe il contenimento della Cina però su questo contenimento c'è qualche dubbio andiamo a vedere l'altra però ecco, riflettiamo sempre su queste cartine che sono cartine che rappresentano sia la dimensione geografica ma la dimensione politica che quindi è un modo, come si vedono ma l'ho detto all'inizio come si vedono cartina geografica ma che però dimostra l'evolversi di una situazione politica anche come uno Stato si vede come una classe dirigente questa è la Crimea invece nella Crimea ecco anche qui per vedere la complessità e come noi adesso sapete come la Crimea è finita l'Ucraina no? perché qua la Crimea è finita nell'Ucraina perché fu Khrushchev in una notte di Bagordi ma in realtà perché non era all'ordine del giorno a regalarla a regalarla ma era una dimensione amministrativa all'interno dell'Unione Sovietica ma era così eh l'Ucraina era una dimensione amministrativa cioè sebbene c'era il diritto scritto nella Costituzione alla secessione però il partito unico comunista non consentiva assolutamente no un cheat di questo e quindi disse la Crimea se la tenga l'Ucraina ma quando l'Ucraina faceva parte come regione in pratica amministrativa una repubblica ma e come scusi come è accaduto che il Veneto ci ha dato Sappada in Friuli Venezia Giulia domani non so cosa accade dicono ritornami Sappada cioè non so ecco qui quello che volevo sottolineare della cartina che fa presente come all'interno della Crimea ci sia sia dei tartari iper filo ucraini sia anche altre minoranze iper filo russi e quindi ecco questa è un po' la dimensione problematica nella quale noi ecco e qui chiamo il nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine noi che siamo studiosi e che addirittura avvieremo un corso probabilmente non è ancora stato approvato ma lo stiamo facendo partire proprio nell'ambito del come un corso inter interdipartimentale ma con a capo il Dipartimento di Scienze Giuridiche che abbia presente lo studio dell'identità in rapporto all'ambito giuridico e politico e statale andiamo avanti grazie con la prossima grazie ecco questa è la figlia di Dugin ecco quanto meno per il viso sicuramente non da Mengele o da criminale criminale oh Dio io anche delle donne bellissime non mi fido molto perché anche Matari io sono sensibile alla bellezza che vive ho capito ma belle o brutte quando hanno l'anima nera comunque prima o dopo la dimostrano io non voglio dire che avesse l'anima nera con la bellezza o con la bruttezza ci c'entra ben poco dipende cosa c'hai all'interno comunque faccio anche richiamo io abbiamo fatto anche delle iniziative per la politosca io quando è morta vicino lontano abbiamo dato il premio nessuno il premio alla memoria della politosca io quando è stata uccisa cioè non teniamo presente ecco tutti gli ambiti passiamo un'altra questa non è una cartina era una foto ma ci ricordava quello che è accaduto andiamo un po' dalle altre parti l'Afghanistan che abbiamo abbandonato un anno fa praticamente perché oggi qualche giorno fa ricorre l'anniversario questa domenica siamo vicini proprio all'anniversario dell'ultima fuga da qualche giorno fa c'è stato l'anniversario proprio della fuga compresa quella dell'Italia ecco e qui vediamo le etnie le divisioni il fatto che l'Afghanistan anche adesso perché questa è una mappa del 2022 anche adesso che pur l'Afghanistan è sotto la sovranità dei talebani in realtà ci sia tutta questa complessità e che nemmeno i talebani con un regime sanguinario diciamo che abbiamo lasciato come occidente a un regime sanguinario però posso dire una cosa i tanti giovani afghani invece di venire in Europa a vendere e a spazzare e a spazzare eroina e droga varia se avessero avuto le palle sarebbero rimasti là a difendere il proprio paese e invece li becchiamo qua nei giardini a spazzare con la radiolina e quant'altro purtroppo a Pordenone il bel vivere mentre le donne che hanno più palle degli uomini sono quelle che si sono scese in piazza per contestare i talebani i quali con i calci del fucile li hanno prese a botte e poi hanno cominciato a sparare per aria teniamo presente dichiarazioni americane di noi occidentali agli inizi diciamo dell'operazione per introdurre la democrazia lì dove avevamo risposto alle perplessità di alcune donne che dicevano ma come faremo noi vi proteggeremo però scusi ho capito però dopo 20 anni 20 anni se non si riesce a ristabilire l'ordine e se non c'è la voglia da parte dei nativi di ristabilire l'ordine questi qua sono ritornati a riprendersi l'Afghanistan arrivando con i ciao arrivando con i ciao senza che nessuno avesse sparato un colpo l'esercito pagato e strappagato perché era con i 20 dai ma dai strappagato dall'occidente era con i 20 ha pensato ma certo prima dicevano resisterà sei mesi poi tre mesi ma dai poi non ha resistito niente perché ma dai in una prospettiva di ho ancora due minuti mi dia l'altra ecco qui è comunque teniamo presente che allora io i giorni passati sono stato per esempio a Bogotà perché è sempre interessante sono stato poi anche ad Atlanta cioè è sempre interessante per le relazioni internazionali per le relazioni internazionali bisogna conoscere l'altro da sé dialogare l'imes quando fa un numero sul Giappone manda manda due tre membri della redazione a stare un po' di giorni là a parlare con ovviamente i livelli governativi ma anche con la gente per capire per capire e questo bisogna farlo e quindi per esempio ho capito che per esempio in America Latina interessa zero la guerra in Ucraina se non per le ripercussioni cioè la vedono come una guerra iper iper lontana anche perché quello che capita a noi quando accadono le guerre in Congo o nel Mali c'è la guerra ma a noi non se ne può fregare di meno i francesi sì perché sono loro che devono poi che poi gli arrivano le varie la colonia però ecco quello che vogliamo sottolineare adesso io con la mia miopia non arrivo a vedere ma vedete il numero di guerre di conflitti nel mondo non c'è solo quello in Ucraina ma no ma ce n'è a Iosa a Iosa ecco in Siria non è finita la guerra ha bombardato l'altro giorno gli americani questo è per dimostrare la dimensione diciamo come il mondo può vedere le guerre e qui infine siamo a come l'America sogna la Cina l'abbiamo un po' già visto prima passiamo all'ultima diapositiva che forse è questa allora questa non ho mai vista la prima volta che la vedo possiamo chiudere allora su questa aveva appannato gli occhiali era l'ultima questa la mia miopia questa è la prima volta che la vedo ecco allora chiudiamo qui ma comunque vedete c'è questo per dare uno sguardo prima era in bler l'India colorata di bler adesso gli amici degli Stati Uniti sono visti ipotetici alcuni ipotetici sono visti invece in rosso con altri altri paesi invece più evidenziati direi in blu come possibili amici della Cina bene lasciamo lasciamo questo questa puntata facendo i migliori auguri diciamo a più che migliori auguri facendo le condoglianze ancora a Putin come intellettuale io non condivido non a Putin scusate a Dugin Lapsus e il suo Rasputin a Dugin come intellettuale ecco come intellettuale non non si colpiscono gli intellettuali si contestano le idee degli intellettuali e si smontano e si e si si confronta anche con loro un po' come non si devono uccidere le giornaliste se magari contestano la politoscata tanto per essere chiari tanto per essere chiari ma è inutile che ci meravigliamo di queste cose accade anche dalle nostre parti ed è già accaduto che dei giornalisti ci hanno rimesso la vita magari per raccontare storie legate alla mala vita tanto per essere chiari la mafia io ringrazio ovviamente il professor Guglielmo Cevolin il nostro esperto in geopolitica l'IMES è ancora in storia docente universitario ringrazio voi che ci avete seguito ora la programmazione prosegue anche in questa domenica di agosto grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti